Ragazzi e ragazze oggi insieme a Marcella faremo una super verticale perché dovete sapere che io sono nato in verticale ma lei la fa meglio di me e adesso lo scoprirete Sei pronta Marci? Sai quello che devi fare? Mamma mia le l'avevo detto notate la tenuta del corpo notate l'allineamento soprattutto i glutei Benvenuti! Ok e adesso come faccio a camminare? Adesso a camminare basta che sposti il peso del tuo corpo un po' in avanti E uno e due e uno e due cioè io farei un applauso a questa super persona